buongiorno e benvenuti al mio canale in un commento mi è stato chiesto se potevo fare un tutorial per trasformare un video in degli shorts da caricare sempre su youtube oppure dei reel da caricare su instagram o su facebook lo si può fare in maniera automatica con l'intelligenza artificiale di cap cut per computer questa è la pagina di cap cut per computer ovviamente ve la metterò nelle informazioni sotto il player del video si va su scarica e si installa per windows detto questo ecco cap cut qui chiudo questo è cap cut e come vedete c'è proprio un'opzione da video lunghi a brevi un utente che non ha la versione pro può trasformare video lunghi in brevi fino a 60 minuti al mese quindi sono parecchi si clicca sopra dopo averci cliccato sopra si vedranno due pop up ve li faccio vedere il primo pop up è questo vuoi consentire alle reti pubbliche e private di accedere a questa app perché il file di windows ha bloccato questa applicazione quindi si va su consenti secondo pop up invece voi consentire a cap cut di caricare i propri ultimi vedrai sul nostro server ovviamente bisogna consentire perché sarà proprio il server di cap cut a trasformare il nostro video in altrettanti short o rear vediamo come si fa si inizia da video lunghi a brevi ci si clicca sopra si apre l'interfaccia io ho già fatto una prova questa qua vedete ho creato 20 video brevi da questo video qua che ho caricato si può caricare direttamente da computer oppure selezionare file video da google drive da dropbox oppure da un altro spazio io lo trascinerò qui in quest'area trascinerò il video che ho creato ieri questo qua chiare miniature per video di youtube lo trascino ecco qua qui in basso si deve scegliere la lunghezza vedete qui c'è inferiore a 60 secondi quindi tanto per ricordarsi bene che gli shorts su youtube devono essere al massimo di 60 secondi mentre i reels su instagram devono essere al massimo di 90 secondi invece i reels su facebook devono essere di 60 secondi mentre su tiktok credo che in massimo sia 10 minuti quindi non ci sono problemi a questo punto però io ho visto che nella prova che ho fatto gli shorts poi vengono molto più corti di quello impostando questo dato qua cioè meno di 60 secondi io imposterei automatica per vedere cosa succede poi eventualmente uno può cambiare e può cambiare da 90 secondi a 3 minuti a 60 a 90 secondi oppure in più da 60 secondi io direi invece di mettere automatica per vedere quello che capita quello che succede probabilmente li creerà tutti all'incirca di queste misure qua si va su converti e si attende ci vorrà un po di tempo per caricare il video innanzitutto sui server di capcat e poi quindi per convertirli in video breve ci si clicca su converti chiaramente io non vedrò più quei pop up che mi ho fatto vedere perché vengono mostrati soltanto la prima volta che uno utilizza questo strumento quindi si attende io metto in pausa il video e si attende il caricamento del video il caricamento del video vedete ci vorrà un po di tempo perché siamo appena al 15 per cento del caricamento siamo già più del 95 per cento del caricamento una cosa interessante è che verranno aggiunte automaticamente i sottotitoli anche in italiano se il video in italiano ma sono supportate più di venti lingue quindi probabilmente si possono fare anche quel video in inglese in francese in spagnolo in tedesco in tutte le lingue più importanti ecco adesso c'è la conversione vedete ci vorranno ancora tre minuti per convertire il video che ho caricato in video breve vi metto in pausa la registrazione i video che verranno creati si potranno poi editare video brevi si potrà per esempio cambiare lo stile dei sottotitoli se li vogliamo mantenere e possiamo anche tagliarli se magari eccedono i 60 secondi o eccedono i 90 secondi se li vogliamo pubblicare su instagram e eventualmente possiamo anche aggiungere effetti altre cose affrendo i video brevi nell'editor appunto di cat cat ma questo lo vedremo in seguito ecco qua sono stati già creati come vedete sono stati creati cinque video brevi questo è di 30 secondi questo è di 18 secondi questo è di 47 secondi questo è di 44 secondi questo è di 35 sono stati creati solo cinque video brevi con l'altro video ne ha creati invece venti quindi uno può chiaramente cambiare la durata io ho messo qui durata automatica quindi ne ha creati cinque soli invece se io mettevo magari una durata di meno di 60 secondi magari ne creava di più cosa potremmo fare possiamo riprodurre il singolo video come vedete vengono tutti creati in verticale perché essendo video short devono essere pubblicati in verticale per me lo posso visualizzare questo primo video di 30 secondi poi sono invece un altro stile che è anche il mio quello di mostrare in una miniatura l'argomento che viene trattato nei video e con un titolo che è sostanzialmente descrittivo del video possiamo esportare il video così com'è possiamo pubblicarlo su tiktok chiaramente bisognerà avere l'account collegato su youtube oppure si potrà modificare io credo che bisognerà modificare perché molto spesso i sottotitoli non sono perfetti qui vedete ci sono i sottotitoli che magari non sono perfetti per esempio abbiamo questo si va su modifica e visualizzeremo questo video si potrà modificare si potrà modificare la durata per esempio andando qua su questa iconcina qui vedete c'è anche la scritta si clicca su questa iconcina si modifica la durata la durata però si deve tagliare eventualmente se fosse troppo lunga si può tagliare di qua oppure si può tagliare da quest'altra parte così e qui possiamo esportare direttamente questo video oppure possiamo andare su modificato per aprire real o questo shorts nell'editor di cavcat eccolo qua e come vedete qui in basso ci sono i sottotitoli qui c'è il video possiamo modificare i sottotitoli se sono sbagliati seleziona per esempio questo però servirà soltanto per inserire un titolo questo va bene questo qua nella miniatura quest'altro sottotitolo perché la miniatura con mano sortesana innanzitutto questo è sbagliato certamente non mi ricordo che cosa ho detto ascoltiamo con microsoft designer innanzitutto noi abbiamo a disposizione 15 crediti al giorno con microsoft design chiaramente per andare il video basta toccare la barra spazzatrice con microsoft designer quindi si mette microsoft designer e poi naturalmente si può anche guardare gli altri sottotitoli se vanno bene noi abbiamo a disposizione 15 crediti al giorno va bene naturalmente ogni giorno si rinnovano si può quindi passare quindi possiamo creare fino a 15 qui va bene anche qui si va qui mi c'è sbagliato il maiuscolo ci mette il minuscolo qui ci sarà lo stile dei sottotitoli vedete questo per tutti quelli gratuiti io posso scegliere questo stile qua questo stile qua questo stile qua questi sono quelli gratuiti oppure uno stile anche un po ombreggiato così o così o così oppure anche così secondo me questo è il più carino di tutti chiaramente bisognerebbe controllare che vada bene tutti gli altri sottotitoli quando si è scelto un stile per un sottotitolo poi questi vanno anche visualizzati tutti gli altri sottotitoli e a questo punto cosa facciamo facciamo esportiamo questo real o questo shorts che vogliamo chiamarlo shorts si va su esporta qui si vede la solita minestra si mette per esempio short 1 lo chiamiamo short 1 si va su esporta e lo esportiamo questo però servirà soltanto per inserire un titolo è terminata la esportazione a questo punto possiamo tornare e chiudere questo qua questo editor e possiamo finire tornare indietro e eventualmente editare un altro short come questo per esempio lo possiamo naturalmente far andare possiamo anche tagliare e lo possiamo anche editare andando su un modificato e lo possiamo esportare direttamente acqua se va bene oppure possiamo aprirlo possiamo anche regolarne la durata così e qui si può impostare una durata diversa per poi salvare questo caso non lo facciamo si può esportare direttamente oppure si può affrire nell'editor andando qua per poi modificarne gli stili e eventualmente aggiungersi anche degli effetti si carica il progetto sull'editor di cap cut ecco qua si è caricato e anche qui possiamo fare quello che abbiamo già visto possiamo selezionare i sottotitoli qui magari non si vede molto bene quindi un po' aumentare selezionano sottotitoli per controllare che vadano bene selezionano ci si passa sopra qui non si vede bene il play ma non c'è problema perché si va sulla barra spazzatrice per ascoltare la sua file esporta come lo chiamiamo miniatura di youtube e quindi per bloccare la riproduzione si va sempre sulla barra spazzatrice e che anche qui si possono scegliere lo stile dei sottotitoli andando qua e però possiamo scegliere anche altre cose possiamo aggiungere degli effetti chiaramente possiamo aggiungere solo gli effetti gratuiti quindi sono vari effetti si possono applicare a tutto oppure no e naturalmente poi possiamo anche andare sull'animazione per creare delle animazioni anche in questo caso si possono creare oppure no i sottotitoli naturalmente ci sono già quelli che abbiamo visto prima qui vedete che si possono anche modificare da qua i sottotitoli andando proprio su sottotitoli se per caso vediamo un errore e se non vediamo nessun errore possiamo poi esportare il tutto andando qua su esporta e naturalmente possiamo chiamarlo questo che abbiamo l'altro che abbiamo chiamato short 1 questo lo chiamiamo real 2 andiamo su esporta a questo punto non resta che quindi solo annulla e questo si può chiudere per ritornare all'interfaccia principale che è questa torniamo ancora indietro andiamo su chiudi qui appunto da video lunghi a brevi sono 60 minuti al mese io ho già consumati una ventina di minuti posso anche visualizzare quanti me ne rimangono mi rimangono il tempo è rimasto 40 minuti infatti vedete uno può anche averne di più se si registra come utente pro a pagamento ma gli utenti gratuiti hanno 60 minuti al mese che sono secondo me parecchi e questo è tutto per la conversione automatica di video lunghi in video brevi si può anche settare la durata massima oppure si può andare su automatico con CapCut per computer alla prossima volta